Ancora pochi mesi e la Fiorentina potrà ufficialmente inaugurare il Viola Park, la casa della prima squadra di tutto il settore giovanile, un quartier generale che ospiterà tutta la società in ogni sua funzione e che permetterà al club di Rocco Commisso di giocare le proprie carte per colmare la distanza che negli anni si è acuita nei confronti dei rivali più ricchi e blasonati. È fondamentale per recuperare l'elemento passionale e identitario dei club di calcio, di club come la Fiorentina che fanno sempre più fatica a competere proprio per il modello di calcio che si sta imponendo. È fondamentale, ripeto, trovare dei collegamenti identitari e avere il proprio centro sportivo in cui formare magari talenti del territorio può essere una delle risposte. Secondo il massimo esperto di economia calcistica, l'operazione del restyling dello Stadio Franchi invece non andrà di pari passo col Viola Park. I vantaggi saranno soprattutto sul comfort dei tifosi, ma gli introiti economici nemmeno paragonabili a quelli di uno stadio ex novo. Un'altra sarebbe quella di costruire un nuovo stadio, uno stadio capace di poter far incrementare i valori del fatturato e in questo senso credo che sia stata non coerente con quello che dovrebbe essere lo sviluppo dell'industria calcistica, la soluzione che sarà trovata in città. Marco Bellinazzo ha presentato a Firenze, alla sede della Lega Pro, il suo libro Le nuove guerre del calcio. Il calcio è diventato il teatro di guerre in cui fondi governativi, fondi di investimento, grandi aziende di streaming lottano per accaparrarsi pezzetti di un fenomeno sociale unico nel suo genere che coinvolge 4 miliardi di persone, che condiziona l'umore di 4 miliardi di persone e quindi il consenso.